per presentarvi un tester di rete il tester di rete cos'è è un apparecchiatura che permette di controllare se i collegamenti e tutta la rete interna di una di un edificio di una casa di un negozio di un'azienda funzionano correttamente ci sono tantissimi strumenti dal più semplice al più sofisticato per un uso hobbistico o anche un uso saltuario questo strumento va benissimo questo strumento è composto da due parti e quindi perché si può infatti si può agganciarlo staccare per una semplicità d'uso anche perché vanno posti ai due capi dei dei cavi quindi se io ho un cavo lungo 10 metri 20 100 avrò bisogno in un di connettere da una parte e dall'altra si possono utilizzare direttamente i cavi in rj 45 ma anche eventualmente le prese di rete quelle pronte le prese di rete fisse a muro come funziona sono presenti queste luce queste numeri che evidenziano il i cavi la composizione del mio cavo infatti all'interno di un cavo di rete si trovano più cavetti questo analizzatore va a individuare se ci sono delle problematiche in questo tipo di collegamento qui ho un cavo uno spezzone fatto da me quindi come potete vedere i due cavi il cavo e con le due strumenti del cavo sono queste e sono fatte con la pinza vi rimando al video trovate qua un video di come poter eseguire questo tipo di collegamento detto ciò andiamo provare adesso la realizzazione di questo cavo si fa semplicemente si introduce semplicemente il cavo da una parte e il cavo dall'altra a questo punto vado ad accendere il mio analizzatore e quello che mi si presenta è questa scansione la stessa cosa può essere fatta anche a distanza che è più sovente diciamo la procedura più sovente in questo modo io controllo se i cavi sono nel modo corretto se invece ho un cavo invertito un cavo che non rispecchia la codifica giusta avrò il salto delle dei vari numeri cioè per esempio se ho sbagliato se ho sbagliato morsettare il cavo a costruire il cavo e il cavo il 4 non funziona non si accenderà il numero 4 se invece li ho invertiti da una parte avrò la scansione invece di avere 12345 così via avrò magari 13265 e così dall'altra parte invece avrò magari lo stesso lo stesso di citura un cavo che che magari presenta delle anomalie il lettore me lo legge così come vedete noto subito che c'è qualche problematica questo disco questo discorso si può applicare anche a delle prese di rete fisse dove io andrò a posizionare due cavi due patch in modo poi da andare a vedere la situazione del mio cavo queste due le andrò a mettere nella nella presa nella presa 1 e nella presa 2 e automaticamente accendendo posso analizzare il circuito realizzato cablato interno eccoci alla fine del mio video l'apparecchiatura non è costosissima però vi risolve un sacco di problemi soprattutto quando andrete se dovete fare delle delle patch o delle prese dei cavi di prolunga o quant'altro vi metto in descrizione un link dove potete acquistarlo su su amazon a dei prezzi veramente incredibili perché veramente non costa un non costa tantissimo è un prodotto secondo me utile e valido per chi fa proprio questo tipo di 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 cavi o di connessioni semplice utile e funzionale vi aspetto al prossimo video che spero che sia interessante magari più di questo e che a tutti buon lavoro ciao ricordatevi di mettere un mi piace se vi è piaciuto bye bye ciao 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 ciao